si sta messo male il gioco di arriccino metto di fronte tanto io non sto bene guarda che ci vuole da mettere su youtube cazzo arriva arriva 5 secondi 4 3 2 1 sta qua non mi come a lui no occhio che ti andrà in piedi se ti giri e guardi al vetro ne vedi due però ti seccano non c'è l'uno e l'altro ti ammazza occhio che entrano da sinistra occhio che entrano non fare figuracce entrerà guardando verso destra subito ecco ciao 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 però io ci cari giù di saluto, hai scato? Sì, hai scato? Chi ti stai? Chi ti stai? Chi ti stai? Chi ti stai?